Piantatela di far casino, siamo in aula. Allora, mi ricordo che quando abbiamo aperto la Holden una delle regole era mai fare lezione prima delle undici del mattino. Ci siamo qua, sono sette minuti ancora, però quando una scuola mantiene le sue salde tradizioni, è bello, vuol dire che c'è degli ideali fermi. Si iniziava alle undici perché io avevo un metabolismo che il mattino presto non capì un cazzo e come spiegazione ufficiale era così faranno qualcosa di buono delle loro notti perché mentre invece li chiamiamo a scuola alle otto del mattino non possono uscire la sera. Questo era il disegno ideologico, però vedo che stamattina siamo qua ed è fantastico. È un giorno molto speciale, molto speciale per me ed è presto spiegato. Siamo primi in classifica. Sono 47 anni che non succedeva e per due notti, non una, due notti siamo stati primi in classifica e non è detto che. Siamo lì per caso, ma non per caso invece siamo qua a festeggiare questi 30 anni perché sono stati anni, questo giorno è stato fortissimamente voluto sicuramente da me, ma da moltissime persone e dietro a questo desiderio c'era l'idea, visione, che non stavamo facendo una cosa spiritosa, carina per qualche anno, quello sono capace a farle tutti. Stavamo facendo qualcosa che sarebbe andato oltre di noi, che sarebbe durato, che sarebbe diventato cose che non sapevamo e nessuno di noi ha mai pensato di fare la festa della domenica. Per cui avevamo in mente questo giorno, ma abbiamo in mente anche quello del cinquantenario, l'abbiamo tutti. Diciamo che questo forse è quello da cui non si torna mai più indietro, anche perché la scuola nel franteppo è diventata molto più forte come società, come azienda. Sono contento di vedere Carlo Feltrinelli che nonostante una vita tentacolare è qui con noi, compagno di strada e fratello e quindi sono 30 anni, ma ci sono anche tutti quelli che verranno dopo scritti in questi 30. È fantastico per me naturalmente, ma credo che per tutti quelli che sono anche passati di qua. Sapere che sono passati non da una cosetta, non da un'esperienza di qualche anno veloce, ma sono passati dentro quella che possiamo chiamare un'istituzione, anche se Holden Colfield avrebbe in questo momento vomitato sentendo questa parola. Anch'io un po'. Però insomma, come lo diciamo noi, un'istituzione così dandoci di gomito. Dai, ci sta. Comunque non siamo più una scuoletta, comunque non curiamo più coi colori. Quando abbiamo aperto l'Academy qua di scrittura, il primo corso in cui diamo titolo, non so come chiamarlo, come si chiama, comunque una laurea, diciamo, no? Per cui siamo diventati un pezzo del sistema scolastico di questo paese. Mi ricordo di avere, che ci tenevo molto a ricordare a tutti quelli che avevo intorno in quel momento, che era un momento storico e che dovevamo veramente tornare a casa belli fieri, perché quando noi abbiamo aperto eravamo come un piccolo ospedale in cui curavamo quei colori o quei suoni, con la musga di Chopin, cioè i dottori negli ospedali ridevano di noi. Non solo ridevano, dicevano, beh, è una truffa, certo, vabbè, ma ricco fai soldi, eccetera. Tanti anni dopo, insomma, l'ospedale della città dice, no, ma per curarti vai da quello là, che bravo, no? E questo, non che ne hai bisogno, perché se hai una tua visione, una tua convinzione, vabbè, insomma, vai dritto, non è che hai proprio bisogno che ti diano il Nobel, va bene così. L'importante è che continui a esserci gente che entra. Però se ci sta anche il fatto che tutta una nazione dice, vabbè, oh, questi producono dei risultati, ma perché no, è bello. Per cui abbiamo tantissime ragioni per essere felici? Non è che sono già commosso, mi commuoverò, ma è che ho l'influenza, per cui mi collerà il naso per tutto lo speech. Abbiamo un sacco di cose per cui essere felici, vorrei chiarire che abbiamo fatto moltissimi errori in questi trent'anni, abbiamo passato periodi duri, abbiamo litigato con alcune persone, io non le ho quasi perse nessuna, forse ne ho persa una veramente. Ma insomma, ne abbiamo passate anche di brutte, non siamo tutti così belli, eh? Come Olden Colfield che ogni tanto dice e fa delle cose veramente spregevoli. Spregevoli no, ma insomma abbiamo avuto i nostri passaggi duri. Quando però il gioco si è fatto molto duro, siamo stati in piedi, la pandemia, quando non c'eravamo più una lira, sono stati momenti duri. Però ecco, non ricordo veramente musi troppo lunghi qua dentro, siamo poi tutti entrati in questa scuola per curarci, sempre. Chi la inventava, chi insegnava e chi veniva a scuola. Ed eccoci qua, tutti belli sani, sono contento, grazie di essere venuti, ma è un regalo che fate a voi stessi. Dovevo fare una lezione, mi è parso giusto quando me l'han chiesto, ho detto ma sì, perché tirarsi indietro da piemontese? E naturalmente però non voglio farla troppo seria, troppo sacra, per carità. Per cui ho scelto una cosa, ma più che altro in modo ironico, lo giuro. Cioè ho scelto una roba che da noi è quasi obbligatoria, diciamo. Prima ho pensato faccio una bella lezione su Benjamin, ma lì diventava veramente troppo serio, no? Perché ci sono i grandi classici qui. È come se io mi mettessi a cantare Sapore di Sa. Cioè ci sono dei classici in questa scuola. Uno dei classici è il Gorgo di Fenoglio. Credo che tutti quelli che insegnano qui hanno fatto una lezione sul Gorgo, anche perché è breve, eccetera, eccetera. Tutti si sono sorbiti in una lezione sul Gorgo e quindi noi cosa facciamo oggi? Una lezione sul Gorgo, cioè ce la subiamo di nuovo. Non che io poi in particolare abbia molto da dire in più dei vostri insegnanti sul Gorgo perché non l'ho mai studiato troppo. Mi è sempre piaciuto moltissimo, però ho pensato di scegliere lui perché è breve, solita ragione, perché è un grande classico della scuola, quindi è più un divertirci a rifare una lezione che avrete già fatto. Ma anche perché c'è, come sapete, molta, 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 molta piemontesità in questo racconto. E il Piemonte, Torino, i torinesi, i piemontesi, questo nord, è sicuramente una delle cose che tutti voi allievi avete imparato. O comunque è stata un'occasione che avete avuto nella vita, cioè vedere questi strani umani e questa strana civiltà. Alcuni ci sono rimasti proprio dentro, si sono trasferiti qua, hanno sposato i torinesi, eccetera. Però insomma immagino che nella vostra vita, poi ovunque siate tornati, aver conosciuto questa gente sia stato comunque un passaggio di vita. E questo racconto dice di questa gente cose immense, lo dice nel modo giusto. Noi poi piemontesi non sappiamo raccontarci più di tanto, ma in realtà abbiamo narratori di noi stessi di un livello immenso. Fenoglio, non c'è nessuno che racconta i napoletani come Fenoglio racconta i piemontesi. Nessuno. Il più grande di tutti, Paolo Conte, ha raccontato noi piemontesi. Però poi noi nei bar parliamo d'altro. Certo se i piemontesi è un po' una cosa che tendiamo a nascondere, diciamo. E invece qui a scuola siamo anche abbastanza fieri di questo e via. Per questo l'ho scelto e sostanzialmente lo leggiamo insieme e dirò due o tre cose, ma è il rito di ripetere una cosa che sappiamo praticamente a memoria. Ok? Si va. Nostro padre si decise per il gorgo e in tutta la nostra grossa famiglia, e soltanto io lo capì che avevo nove anni ed ero l'ultimo. Punto. Bellissimo inizio, come sapete, perché è come prendere il cuore di un racconto, prenderlo e metterlo sul tavolo. Ecco quello che racconterò. Che tra l'altro è abbastanza furbo perché non spoilera, cioè non dice mio padre ti dice per il gorgo e io lo salvai, che come sapete tutte queste sarebbe la storia, ma lo dice in un modo più bello. Cioè mio padre decise di andare al gorgo e io fui l'unico ad accorgermene che ero il più piccolo. E questo è uno dei cuori della storia, lui proprio lo prende pulito pulito e lo mette. Da subito, qui è punto a capo, da subito è dritto dritto, che lo farà per tutto il racconto, piemontesi. Dritto dritto con un'andatura bella. Adesso non voglio fare il tecnicista che in questa scuola non va molto, però la prima frase è bellissima, cioè è armonica, è equilibrata. È un, due, tre. Uno, due, più lungo, tre. Nostro padre si decise per il gorgo e in tutta la nostra grossa famiglia, soltanto io lo capì, che avevo nove anni ed ero l'ultimo. Per proprio rompere i coglioni, la prima e la terza hanno lo stesso numero di sillabe, dodici. Lui non le ha contate, ok? Però evidentemente cercava una architettura, cioè sapeva che era l'ingresso e lo voleva disegnare bene. Poi gli sarà venuto che era lo stesso numero di sillabe, se fosse qui direbbe, oh capite, non è importante, ma noi siamo anche qui purtroppo per scavare i cadaveri e recuperarli. Punto a capo. In quel tempo, biblico, evangelico, stavamo ancora tutti insieme, salvo Eugenio, che era via a fare la guerra d'Abissinia. Punto a capo. Quando nostra sorella penultima si ammala. Bellissimo cambio di tempo, di velocità, di italiano che mi fa godere fisicamente. In italiano, è molto parlato, no? Quando d'improvviso si gira e mi dice, coglione, così, questo, no? È una delle due occorrenze in cui lui usa il verbo presente, il tempo presente. Quando usa il tempo presente, anche lì non è che si è detto, adesso uso il tempo presente, però se usa il tempo presente è una specie di hop. E quando nostra sorella penultima si ammala. Mandammo per il medico di Niella e alla seconda visita disse che non ce ne capiva niente. Chiamammo il medico di Murazzano ed anche lui non le conosceva al male. Venne quello di Feisoglio e tutte e tre dissero che la malattia era al di sopra della loro scienza. Questo è come Maria delle quattro croci ora pro nobis. Maria tutta del rossa ora pro nobis. C'è un giro di preghiera, no? No? No, la malattia di Niella, la seconda visita. Come diciamo il medico di Murazzano, bene quello di Feisoglio, tutti questi nomi del nostro Piemonte che voi non conoscete, noi invece abbiamo, ma sono nomi, come quando io leggo i romanzi dei sudamericani, sono nomi bellissimi, no? Per loro sono località, però suonano meravigliosamente. Voglio rompere i coglioni fino all'ultimo, rovinandovi la bellezza di questo racconto, facendovi notare come lui rocciosamente, petrosamente si affidi ad alcune cose molto elementari e una è lo schema tripartito. Avete visto la prima frase in tre? E qui il loro a pro nobis è in tre, ok? Segue, i medici sono tre, deperivamo anche noi accanto a lei e la sua febbre ci scaldava come un bracere quando ci chinevamo su di lei per cercare di capire che punto era. Di nuovo una fase in tre. Se vogliamo proprio guardarlo da vicino, ci sono delle virgole qua. Quando nostra, scusate, deperivamo anche noi accanto a lei, virgola, e la sua febbre ci scaldava come un bracere, virgola, quando ci chinevamo su di lei per cercare di capire che punto era. Non sono virgole come le insegniamo in questa scuola il primo anno, sono virgole come le insegniamo in questa scuola il terzo anno. Cioè, in un tema le correggono queste virgole. Non puoi dire ho mangiato carne, virgola e broccoli. No, il primo anno no. Ma il terzo sì, perché allora le virgole cominciano a essere qualcosa che allude a una respirazione volendo a una lettura a voce alta. Ok? Allora lui con le virgole ci sta dicendo che va letto così. Deperivamo anche noi accanto a lei e la sua febbre ci scaldava come un bracere quando ci chinavamo su di lei per cercare di capire a che punto era. È un'indicazione di musica, non è un'indicazione di topografia, di geografia. Ok? Lui opta per questo, spesso quando lui scrive. Insomma, è un uso che noi conosciamo. Fra quello che soffriva e le spese, nostra madre arrivò a comandarci di pregare al Signore che ce la portasse via. Fra quello che soffriva, non è italiano, ve lo dico. Non è neanche piemontese, azzarderei, ma lì vi devo chiedere a Francesca. È un modo scorretto di parlare italiano, ma molto dritto. Fra quello che marotti il figlio e le tasse che sono arrivate, mi sono andato a farmi una sbronza. Ma non è che tu lo scrivi. Molto semplicemente, diciamo che è un parlato. Non è un dialettale, oserei dire, ma è un parlato. Una delle armi che lui usava, e poi ne parliamo. Fra quello che soffriva e le spese, nostra madre arrivò a comandarci di pregare al Signore che ce la portasse via. Punto e virgola. Ma lei durava. Verbo scelto benissimo. Trovate un altro. Cioè lei si ostinava, stava lì, non guariva, non moriva. Cioè, devi dire un sacco di cose, no? Ma lei durava. Molto bello. Molto, molto bello. Solo più grossa un dito e lamentandosi sempre come un'agnella. Non come un'agnello, ma come un'agnella. Come se non bastasse, si aggiunse il batticuore per Eugenio, dal quale non ricevevamo più posta. Tutte le mattine correvo in canonica a farmi dire dal parroco cosa c'era sulla prima pagina del giornale. E tornavo a casa a raccontare che erano in corso coi mori le più grandi battaglie. Cominciamo a recitare il rosario anche per lui, tutte le sere, con la testa tra le mani. Era un mondo, lui ha raccontato questo mondo, era un mondo di sfighe. Era un mondo di... la malora, ok? È un mondo duro, quello che lui ha raccontato, molto sfortunato, sempre nel dolore, nessuna soddisfazione, poche gioie, eccetera. Il Piemonte, vorrei dire, non è questo, ma lo era molto quel Piemonte che lui raccontava, lo è stato. Oggi voi andate nelle Langhe, le terre sue, trovate dei ricconi che se la fanno bene, vero Francesco? Cioè non è più esattamente così, ma comunque è rimasta una vocazione alla malora che è molto radicata in noi piemontesi, no? Per mia mamma mi dice, stai attenti alle correnti, è perché in Svezia, cazzo, è una roba... Cioè noi abbiamo sempre... siamo pronti a... che ci arriva, per cui siamo... avete notato che stiamo sempre un po' con le spalle su, ci aspettiamo il colpo, no? È così. Qui vi faccio notare una piccola cosa. Una cosa ammirabile di sto racconto è che fino ad adesso è stato su un livello che è molto difficile da definire, cioè le cose che dice, le informazioni che dà, hanno un certo livello di definizione, di punti luce, diciamo, no? Cioè non c'è un solo dettaglio, se vi rendete conto, fino qua. Cioè vanno dal medico di Murazzano, vanno dal medico... lei è magra come un'agnella, però non trovate... Cioè state sempre a mezzo metro sulla terra, state come fosse in un posto in cui le storie galleggiano, ok? Ma non ci sono dettagli, non so, non c'è una descrizione di un volto, non c'è un aggettivo, non ci sono aggettivi. Cioè non andiamo per la strada tutta piena di curve per niente. No, andiamo per la strada per niente. Va alla guerra d'Abissinia, non c'è la guerra che si era in quel momento. Guerra d'Abissinia. Tutte le mattine correvo in canonica a farmi dire dal parroco cosa c'era sulla prima pagina del giornale. Solo quel che serve. Tutte le mattine, quando? Tutte le mattine. Andavo dal parroco, quale strada? Boom. Il parroco com'era? Boom. A far cosa chiedere cosa c'era? Dove? Sul giornale, chiuso. Cioè un passo indietro non c'è più un cazzo. Cioè un passo indietro non c'è il fatto, diciamo. Ma un passo più avanti incomincia a mettere dei dettagli diversi. E la cosa che a lui riesce, molto naturale, è di stare a lungo in questa roba qua. Quando uno sta molto a lungo, galleggia così, cosa succede? Che quando lui dice un dettaglio, cioè quando mette un aggettivo, quando ti dice era blu, insomma, tu è come boom. È come se improvvisamente entrassero i tromboni. Mentre invece in un libro, non so, di molti di noi, ma insomma, sono così pieni in modo armonico, ma insomma di dettagli, dei dettagli, no? Che non ci fai neanche caso. Qui, in questa frase qui, voi incontrate il primo dei pochissimi che lui inserisce in questo racconto. Cominciamo a recitare il rosario anche per lui tutte le sere, con la testa tra le mani. E per la prima volta tu proprio li vedi. Perché per il resto, non so se vi siete resi conto, non vi ha mai permesso di vederli veramente questi qua. Invece in questo gesto li vedi, che dicono il rosario con la testa tra le mani, proprio piegati. Poteva scegliere altri, però questo l'ha scelto. Questo non è che ha detto adesso piazzo, non è così. Come in questa scuola spero che abbiamo sempre insegnato. Gli girava la mano e a quel punto veniva da dietro tutta questa sofferenza. C'è questa storia del rosario, lui se li sarà visti tutti così, con la testa tra le mani. Una scena che lui avrà visto di rosari dolorosi della sua vita. E allora si concede per la prima volta al primo dettaglio. Credo che nel corso di tutto il racconto i dettagli siano, non so, cinque. Per tutto il resto vedrete che è sempre tutto sul modello. Tutte le mattine correva in canonica a farmi dire dal parroco cosa c'era sulla prima pagina del giornale. Usate questa frase come modello, ok? Sentite questo. Naturalmente questo tipo di letteratura, che non è l'unica che si può fare, se ne siamo chiari. Però questa qui ha una specie di, non è velocità, è fluidità, cioè non ha attrito. E quindi dà un senso di grande velocità. Quindi per sé non è veloce, non ha attrito. Capite che la vostra testa è come la bicicletta in discesa, cioè non state pedalando ma state andando e fa zzzz. Cosa che dà o un grande piacere o quando il soggetto è così un po' doloroso, dà una sorta di respiro. È come quando si comincia a respirare bene. Cioè ti entra di più tutto. E ti porta a una specie di battito del cuore, in cui non c'è attrito, non c'è resistenza. E quelle volte che c'è il sasso, con la testa tra le mani, te ne vai via con questa immagine che non abbandoni mai. Punto a capo. Uno di quei giorni nostro padre si leva da tavola, tempo presente, in giro eh. Uno di quei giorni nostro padre si leva da tavola e dice con la sua voce ordinaria, scendo fino al belbo a voltare quelle fascine che mi hanno preso la pioggia. Sono le uniche parole che pronunciano in questo racconto, che è un racconto privo di dialogo. Non è nemmeno un dialogo, neanche questo, però c'è una voce che dice. È l'unico. È l'unico virgolettato tranne un altro che segue che è immaginato. Avrei voluto dire ma non l'ho detto. Quindi anche questo è curioso perché è un attrito ancora in meno nel racconto. Non devi nemmeno fare col cervello quello switch che è passare da il racconto al dialogo, che allora diventa una cosa tipo radio, televisione, eccetera. L'unico punto è nel punto centrale. Quando il padre si alza e dice, sa vado al fiume, va che ho quel lavoro da fare, eccetera. Una delle ragioni per cui è incauto leggere il gorgo è che non c'è una voce al mondo con cui leggere questa battuta. Perché naturalmente lui è un vecchio, no? E poi Fenoglio ci frega a tutti perché dice con la sua voce ordinaria. Bellissimo. E chissà che cazzo era la sua voce ordinaria. Quindi comunque tu lo legga, avrebbe dovuto essere in dialetto, ma Fenoglio non la fa sto trucco, sto trick che io abborro, no? Andare nel dialetto per farla facile. Questa battuta lui la poteva fare in dialetto. Lo dico a tutti i sardi che al momento buono qui lo scrivono in sardo. No, 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 no. Questa è letteratura italiana. E lui, perché ogni tanto usava l'inglese, però il piemontese non credo che l'abbiamo mai messo. Non vorrei usare. Scendo fino al Belvo. Allora, una piccola cosa dobbiamo sapere. Il fiume, per questa gente, non c'è il mare in quelle terre. D'estate si va a fare il bagno al fiume. Il fiume è il fresco, il fiume il divertimento, il fiume i corpi nudi, eccetera. Il fiume è anche assassino. Nel fiume si muore. Anche nel mare. Ma insomma, il fiume si muore e si muore in particolare perché ci sono questi gorghi che loro conoscono. E infatti dicono, andate a fare il bagno là, nel tanaro, nei fiumi hanno questo. Naturalmente, qui il fiume è il Belbo, che è il loro fiume. Nella prima frase di questo racconto c'è il nostro padre si decise per il gorgo e il gorgo è il luogo che loro conoscono molto bene e decidersi per il gorgo è una bellissima espressione per dire farsi fuori. È bellissimo. Non tutte le civiltà ce l'hanno. A Genova non dicono mi decido per il gorgo, semmai dicono, non lo so cosa dico. Immaginano dai ponti dell'autostrada, visto che l'autostrada che hanno. Lì hanno questo modo. Non so come, ma io capì a volo che andava a finirsi nell'acqua e mi atterrì, guardando in giro, vedere che nessun altro aveva avuto la mia ispirazione. Questo è di nuovo l'inizio del racconto. Cioè mi atterrì, non che si andasse ad ammazzare, no? Mi atterrì il fatto che nessuno aveva capito e che solo io avevo capito. Sensazione che molti hanno il privilegio di avere nella vita prima o poi. Non quella che il padre si va a ammazzare, non questa. Però ci sono dei momenti strani nella vita in cui dici ma come cazzo nessuno si sta accorgendo che? E non è che ti senti figo perché se l'hai, hai paura. È orrendo essere l'unico che si accorge che la scuola sta andando a rotoli. Ne dico una. Non è vero, sta benissimo. Ma dico per dire, no? Però mi è anche successo di entrare in quei corridori e dire ma com'è qui? Nessuno si accorge che... Ui ragazzi, mi è anche successo. Ed è una solitudine che ti atterrisce. Più che il pensiero che tu va si fa fuori in quel momento, no? Cioè ti guardi in te e dici ma è la tavola. E lui qui tira fuori, è tanto forte questa roba, che tira fuori il secondo dettaglio, la seconda moneta, diciamo così, è che è questa. Non so come ma io capì a volo che andava a finirsi nell'acqua e mi atterrì guardando in giro vedere che nessun altro aveva avuto la mia ispirazione. Nemmeno nostra madre fece il più piccolo gesto. Seguito a pulire il paiolo. Tum, sasso, no? C'è tutta una tavolata, mangia, eccetera. Seguito a pulire il paiolo. E sì che conosceva il suo uomo come se fosse il primo dei suoi figli. Che tra l'altro è una bellissima, una bellissima annotazione di come le donne possono conoscere. Punto a capo. Eppure non diedi l'allarme. Come se sapessi che lo avrei salvato solo se facessi tutto da me. Frase ignobile dal punto di vista dell'italiano. E qui veramente non ho spiegazioni. Cioè potrei dirvi che era una figata. Cioè non so, aveva bevuto. Oppure non si può dire che non sapesse l'italiano. Questo non si può dire. Però è che lui stirasse la consecucia temporum. Questo sì. Lo faceva spesso. Perché la consecucia temporum è un modo elegante di portare la narrazione e la scrittura. Ed è il bello scrivere. Lui non amava il bello scrivere. Amava la scrittura bella. L'ha inseguita tutta la vita. Ma certamente non era uno di quelli del gran galateo letterario. Cioè non era Proust. Non erano questi che disegnavano queste frasi pazzesche. No. Lui aveva un tipo di taglio dell'accetta tutto diverso suo. Che cercava bellezza e inseguiva bellezza ma non era certamente il manto della bella frase. Quindi tirava diritto spesso. Però qui non è tirare diritto. Qui è proprio santo cielo rileggi. La frase sarebbe. Eppure non diede l'allarme. come se avessi saputo che lo avrei salvato solo se avessi fatto tutto da me. Frasa che se sei un piemontese non puoi scrivere. Cioè è troppo... è troppo... cioè la vita non è così ragazzi. Quindi tiri diritto. E quindi giusto. Eppure non diede l'allarme. Come se sapessi... non avessi saputo. Come se sapessi... qui tira diritto. Bene. Come se sapessi... che lo avrei salvato. Ok. Tutto diritto. Bene. Solo se facessi tutto da me. No. Cioè questo è il mio benzinaio con tutto rispetto. Cioè non lo puoi fare. Solo se avessi fatto tutto da me. Era bello. Ve la leggo. Eppure non diede l'allarme. Come se sapessi che lo avrei salvato solo se avessi fatto tutto da me. Cosa c'è? Che andava male. Ma che? Se facessi tutto da me. Però non so spiegare. Veramente... Ho chiesto anche la figlia. La figlia purtroppo non l'ha visto praticamente. Però sai. Le figlie. Sai mai. L'ha fatto così. E vabbè. Ce n'è molti nella sua letteratura di queste robe qua. Io mi immagino sempre i traduttori. In svedese. Quelli lì. Che cazzo fanno? Cioè... Replicano l'orrore o stirano... Gli uscì dietro che lui, pigliato il forcone, cominciava a scendere dall'aia. Anche qua è di nuovo questo parlato. Gli uscì dietro che lui, pigliato il forcole. Cioè no. Non è italiano scritto questo. Però... Quando... E niente. Cioè... In effetti quando tu devi infilare... Le mosse ABCD. Una, due, tre, quattro. Che fa la vita ogni tanto, no? Ogni tanto... La lingua scritta è un po' lenta. È bella, ma è un po' lenta. Ogni tanto, quando ti è venuto, che veramente ti sta venendo fuori la vita com'è, e ti sta proprio con la mano, tu lo stai seguendo, ecco. A tardarsi. Allora lì, beccare il parlato che, per necessità più veloce, più diretto, più dritto, e naturalmente ti aiuta. Ti aiuta, ti dà quell'idea un po' blebea, eccetera, che a lui non dispiaceva affatto. E serve. Serve e lui lo faceva molto bene. Qui ad esempio gli uscì dietro che lui, pigliato il forcone, cominciava a scendere dall'aia. Perfetto. Mi misi per il suo sentiero, ma mi staccava a solo camminare, e così dovette buttarmi a una mezza corsa. Mi sentì, mi riconobbe dal peso del passo, ma non si voltò e mi disse di tornarmene a casa, con una voce rauca, ma di scarso comando. Non gli ubbidì. Allora, venti passi più sotto, mi ripetè di tornarmene su, ma stavolta con la voce che metteva con i miei fratelli più grandi, quando si azzardavano a contraddirlo in qualcosa. Punto. Una cosa che in questo pezzetto mi va di registrare è che lui fa un gesto che non sarebbe permesso in questa scuola, neanche al terzo anno. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto righe, ci sono tre ma. Tre ma. Il ma è già di per sé una struttura molto primaria. Volevo venire, ma si è rotto il motorino. Cioè, è proprio la... Cioè, dammi la versione primaria di qualsiasi narrazione, no? Attaccato alla città, ma non l'ha presa. Cioè, è il ma. Quindi è il grado zero. Se racconti qualcosa, ci sarà un ma. O un quando, te. Ma nel quando c'è spesso il ma, insomma. Quindi stai usando una struttura quasi primitiva, ok? Per questo ci andiamo piano, perché comunque questo è un mestiere artigianale evoluto. E ci andiamo piano e comunque non ci sogniamo di ripeterlo. Cioè, se c'è un ma, fine lì. C'è qui, da qualche parte, una mia... Una persona che è stata molto preziosa nella mia vita perché mi ha fatto l'editing di tutti i miei primi libri. Ma, insomma, tre ma così, ma proprio bam, bam, bam. Sicuro. Però è così. Mi misi per il suo sentiero, ma mi staccava solo a camminare. E così dovetti buttarmi a una mezza corsa. Mi sentì. Mi riconobbe dal peso del passo, ma non si voltò. Mi disse di tornarmene a casa con una voce rauca, ma di scarso comando. Non gli ubbidì. Allora, venti passi di più sotto, mi ripete di tornarmene su, ma stavolta con la voce. Lo sapeva, non lo sapeva. Poteva anche rileggere. Non lo sappiamo. Sta di fatto che, se non ve lo dico, non è detto che ve ne accorgiate. E guardate che il ma si patisce. Cioè, chiunque abbia un po' di... Qualsiasi buon lettore il ma lo scama subito. Però non è detto che voi lo sentiate. Perché? Non che lui lo voleva, non so quanto era consapevole, ma certamente a questo punto del racconto, per come è stato gestito fino adesso, tu sai che sei dentro il flusso originario della vita. La letteratura, si forse, ma più che altro tu sei lì che scendi questo crinale con quei due. Dritto. Non c'è quasi lo scrivere di mezzo. E quindi, di fatto, tu non lo senti perché lo scrivere, a poco a poco, proprio si sfila via. Cioè, lascia che la realtà sia così. Questa discesa dei due. Cioè, tu non lo senti lo scrittore. Non lo senti più. Allora, in qualche modo, quando lui si mette a usare delle strutture in maniera ridicola, così elementari, così, e anche a ripetizione, è quasi giusto che sia così. Nel senso che lo scrivere letterario si toglie sempre più dai coglioni. solo più che un bambino, quello lì, questo pendio. Come vedete, i dettagli, cioè, descrive questo bosco zero. È sempre ancora come la frase del parroco, eccetera. Cioè, non c'è niente di più di quello che vi serve per avere un ritmo. Gli piace seguirli. Poteva anche fare solo una frase, arriviamo al fiume. Però gli piace proprio questo tempo, no? E questo elastico che c'è fra i due. Gli piaceva farlo, ma è come se la letteratura ce ne andasse abbastanza. Mi rialzai, ah no, scusi. Mi spaventò, ma non mi fermai. Ma non mi fermai. Cioè, ripetono, clac, 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 clac. È come se avesse solo più, solo più, un'espressione piemontese. Abbiamo solo noi. Fantastica. Tutti gli altri non so come facciano a parlare italiano. È come se avesse solo più un meccanismo con cui ritrarre la realtà. Avesse rinunciato a tutti gli altri. Ce ne sono un sacco anche di abbastanza primitivi. Era talmente, non è che... Cioè, vuoi farmi il primo grado di complessità? No. Sono uscito, ma non sono arrivato. Pum, 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 pum. E continua, continua. Ma, ma, ma. Mi spaventò, ma non mi fermai. Lui si lasciò raggiungere e quando mi sentì al suo fianco, con una mano mi fece girare, come una trottola. E poi mi sparò un calcio dietro, che mi sbatte tre passe più su. Mi rialzai e di nuovo dietro. Ma, adesso, ero più sicuro che ce l'avrei fatta a impedirglielo. E mi venne da urlare verso casa, ma... Sono impietoso, ma anzi, cioè, è pazzesco, come da un certo punto sia maledetto l'insegnante che corregge questo in un racconto di un allievo. O comunque, glielo corregge e poi lo ferma al corrido e dice, allora, rimettili tutti. Lo dico questo, ma non sul ma, su tutto noi dovremmo essere così. Ma sono trent'anni che cerchiamo di essere così, poi facciamo errori. Pace. Mi rialzai e di nuovo dietro. Ma, adesso, ero più sicuro che ce l'avrei fatta a impedirglielo. E mi venne da urlare verso casa, ma ne eravamo già troppo lontani. Avessi visto un uomo all'intorno, mi sarei lasciato andare a pregarlo, virgolette. Voi, per carità, parlate a mio padre, diteli qualcosa, chiusi virgolette. Ma, non vedevo una testa d'uomo in tutta la conca. Punto a capo. Eravamo quasi in piano, dove si sentiva già chiara l'acqua di Belbo, correre tra le canne. A questo punto lui si voltò. Si scese il forcone, anche che è un italiano un po' così. Si scese il forcone dalla spalla e cominciò a mostrarmelo come si fa con le bestie feroci. Non posso dire che faccia avesse. Perché guardavo solo i denti del forcone che mi ballavano a tre dita dal petto. Qui, come vedete, più il racconto arriva al momento, più guardo da vicino. E questo sguardo sui tre denti del forcone, quanti sono, no? E' piccolissimo. C'era solo il paiolo e le teste in mano. Ma è ancora più piccolo, perché sai, le tre punte. Il punto di vista è molto bello, no? Perché tu vedi quelli... E sarebbe stato bello così? Già bello così? Non posso dire che faccia avesse, perché guardavo solo i denti del forcone che mi ballavano a tre dita dal petto. Virgola, è questo qui, però è fenoglio. E soprattutto, perché non mi sentivo di alzargli gli occhi in faccia, per la vergogna di vederlo come nudo. Questo, Piemonte. Cominciamo con la lezione del Piemonte. Tutto il resto lo potevano fare molti scrittori italiani, bene, come lui. Cioè, mi avvicino, tracca, poi non lo guardai in faccia perché guardavo questi tre, giusto, no? Poi c'è quello che lui riesce a fare, ed è la ragione per cui molti di noi pensano che lui sia il più grande. Cioè che in quel frammento di tempo, lui coglie una cosa che è immane, che vale per tutti gli umani, per carità. Cioè che lui, sì, ha queste tre cose, però non alza nemmeno lo sguardo, perché comunque non vuole vedere la faccia di suo padre in quel frangente lì. E quel frangente lì, inutile che ve lo spieghi, ok? E l'espressione molto elegante, molto precisa, che lui usa per la vergogna di vederlo come nudo, no? Ci sono delle circostanze in cui tu, effettivamente, ci sono delle persone di grande autorità o che sono passate dalla tua vita come delle sicurezze, delle saldezze, dei riferimenti, e a un certo punto tu li vedi nudi, non fisicamente, ma non è bello, ok? Cioè se puoi non alzi lo sguardo. Perché non alzi lo sguardo? Allora, se chiedi a uno scrittore romano ti dà delle spiegazioni. Se chiedi a uno scrittore piemontese, me compreso, lo sai benissimo perché ti vergogni. Ti vergogni per lui, punto. Ma se chiedetelo a un napoletano, non vi dà questa spiegazione. Mi dirà perché l'avete venuto il tuo padre nudo, non lo vede, non lo vuoi vedere, perché è l'autorità che ti si smota, eccetera. Invece per noi è molto semplice, ti vergogni per lui. La vergogna è la categoria portante dell'esistenza di noi piemontesi. Ve ne sarete resi conto sicuramente passando da queste terre. Non è che io ne sia fiero, non lo difendo, dico solo che siamo fatti così. Cioè non è che ci sono quelli che hanno tutti i capelli neri, tanti. Noi abbiamo un senso della vergogna elevatissimo. Siamo i professionisti campioni mondiali di vergogna, ok? Da cui discendono delle cose tipo la timidezza, la correttezza. Cioè se il sentimento di cui tu sei maestro mondiale è la vergogna, ovviamente ti vesti in un certo modo, ti comporti in un certo modo, ami in un certo modo, no? Cioè ne consegui un'esistenza. Dopodiché potete giudicarla come volete, però dovete sapere che viene molto da lì. Non è solo la vergogna, però la vergogna è una delle categorie portanti del nostro andare. Difatti i più evoluti di noi impiegano l'intera vita per togliersi la vergogna da dosso, di qualsiasi cosa. Ma è una bellissima andatura. Fossimo delle barche a vela, è una bellissima andatura. Lei ha vissuto sì, cosa ha fatto? Mi sono tolto la vergogna. Cioè trovatemi un modo migliore per utilizzare una vita intera. Metti il napoletano che non ce l'ha. Cosa cazzo fa tutta la vita? No, davvero, lo dico su sera, cioè lei come ha utilizzato la sua vita? Eh, invece noi abbiamo proprio, no? Abbiamo uno scopo, un passo ogni giorno. È una roba bellissima. C'è chi ha 18 anni già ce l'ha fatta, c'è chi ci ha messo 40 anni, c'è chi che se la toglie solo morendo, no? Ma nemmeno. Mia madre non se la toglierà neanche morendo. Infatti morire, che è un gesto un po' così, di cui noi tendenzialmente ci vergogniamo, ma mia madre non lo fa, cioè, tocco ferro, ma è lì, non intende, perché lo capite che è un gesto, ti disunisce un po', cioè, poi chissà come ti vedono all'ospedale, ma tutto questo è carino, è bello, cioè, siamo fieri. Spiega molto di noi. Chissà se avete imparato la vergogna, cioè, i baresi che sono venuti a questa scuola hanno interiorizzato una forma di vergogna oppure continuano proprio... Chi lo sa? Ok, punto a capo, siamo al cuore della faccenda. Provate a dire con che parola inizia la frase che vi sto per leggere, ma... La capacità dei piemontesi, fai una scuola, non ti stai a... Ma arrivammo insieme alle nostre fascine. Il gorgo era subito lì, dietro un fitto di felci, e la sua acqua ferma sembrava la pelle di un serpente. Unica similitudine di tutto il racconto. La similitudine è un gesto estetizzante, quando c'hai la vita qua, tu dici, usi una similitudine, insomma, lì morde meno, no? Comunque, insomma, ma per carità, è una mossa bellissima la similitudine. Però, se vuoi fare sta roba qua che lui sta facendo, effettivamente, una sola ne usa, e in questo lui era molto rigoroso, ne usa una per definire il gorgo, cioè il cuore di tutto sto racconto. Quindi non la butta là, eh? Non la butta sul parroco, il parroco che mi rispose come un falco che... No, il parroco non c'è bisogno. Però davanti al gorgo viene fuori la pelle di un serpente, scelta abbastanza bene perché è una similitudine. abbastanza esatta, e c'è questa cosa del serpente, no? Che ti ammazzerà. Mio padre, la sua testa era protesa, i suoi occhi puntati al gorgo, ed allora allorgai il petto per urlare. Anche qui c'è una sintassi molto bella. Mio padre, virgola, la sua testa era protesa. Molto bello. Questo è italiano molto bello. Non potrei dire che è parlato e scrivere da Dio. Perché stretto, mio padre, la sua testa era protesa, i suoi occhi puntati al gorgo, e allora allargai il petto per urlare. In quell'attimo lui ficcò il forcone nella prima fascina e le è volto tutte, ma con una lentezza infinita, come se sognasse. Anche qui c'è un piccolo slittamento, no? Come se. Però è in un momento... E quando le ebbe voltate tutte, tirò un sospiro tale che si allungò d'un palmo. Io l'ho fatto questo, adesso lo faccio di nuovo. Cioè, proprio sai quando ti arriva proprio l'aria dappertutto e effettivamente vedete che mi tiro su bello così. È bellissimo. Così lo vedo proprio. Obbligatorio a questo punto del racconto farlo. Così tutti. Poi si girò, stavolta lo guardai, e gli vidi la faccia, perché non si vergogna più di guardarlo, ok? Stavolta lo guardai e gli vidi la faccia che aveva tutte le volte che rincasava da infesta con una sbronza fina. E nella mia vita non sono mai riuscito a vedere nei miei occhi sta faccia. Lo dico sinceramente. Ma alcuni di noi invece l'avranno. Sicuramente alcuni dei miei insegnanti sapranno fare lezioni su questa faccia. Ma mi sono sempre chiesto, cioè lì non mi aiuta lui. Questa faccia... E mi piacerebbe sapere che faccia aveva quest'uomo in quel momento, no? Però non riesco veramente a immaginare. Cioè lui torna da qualche sbronza affina, che vorrà dire, insomma, sbronza. Ma... Alleggerito, non so... Ammorbidito come non l'hai mai visto. Non irrigidito dalla prosa della vita che ha lasciato un po' andare. Ecco, no? Mi immagino, no? Che si è fatto due canne, quelle cose lì, no? Vedi che... Un po'... Però ecco, lo ammetto, non ho mai visto sta faccia e lui non mi ha aiutato. Punto a capo, ci sono le ultime cinque righe che sono tra le più famose della letteratura italiana e anche una delle ragioni per cui questo... questo racconto è molto amato. Punto a capo, torniamo su con lui che si sforzava di salire ad agio per non perdermi di un passo. Molto... tenero, molto... molto dolce, perché se ne sono andati giù al contrario, no? Col padre che andava giù, lo... anche lui che inseguiva. E allora se ne tornano su invece che lui va piano, no? lo aspetta. Prima cosa che fa il padre. Rallenta e ti aspetta. E mi teneva sulla spalla la mano libera dal forcone e ogni tanto mi grattava col pollice ma leggero come una formica tra i due nervi che abbiamo dietro il collo. Qui. questo passaggio è... Allora, naturalmente da un punto di vista tecnico, artigianale, letterario, la cosa sconcertante, grande è la pulizia, la coerenza. Cioè vai dritto, vai dritto nella vita e quando loro tornano su vai dritto. dopodiché devi fermare con la stessa sinteticità allora io correvo dal parro che portavo le notizie di una grande guerra con lo stesso dare diritto devi dire qualcosa. Sapete quei racconti orrendi che poi non erano il finale a me mi fa incazzare cioè lo devi chiudere è una melodia la devi chiudere non ti devi sottarre al fatto che però non puoi nemmeno fare il finale no? Come fai? Chissà se gli è venuto in un minuto chissà se ci ha lavorato due anni chi lo sa? Certo gli è venuto questo che viene universalmente riconosciuto come artigianalmente parlando fantastico cioè non lo riesce a fare meglio ok? Sostanzialmente credo che in classe si spieghi perché è pulitissimo perché riesce a fare convergere un universo di cose che questi due potevano dirsi fare eccetera eccetera lo fa convergere in un unico gesto che in più è piccolissimo e di nuovo ti porta a una vicinanza di pixel che nel racconto lui ha avuto proprio praticamente mai un paiolo una testa fra le mani le tre punte del forcone e poi qui se sapete la sensazione un pollice qua no? Io ci ho provato più volte sul mio figlio per capire ma bisogna essere delle langhe lì perché non so abbiamo due nervi ma non so però deve avere anche questi pollici che hanno i contadini insomma però la immagine questa manona neanche ha spostato la manona perché ce l'ha già lì e fa così quindi immaginate un intero universo che viene è una chiusura è un finale è tutto così dannatamente giusto quindi da un punto di vista tecnico è una lezione è una lezione talmente alta che quando poi la rifai sei grottesco cioè quando poi tu finisci il tuo racconto così niente sei destinato al disastro non fatelo mai detto questo da un punto di vista così diciamo artigianale ci siamo l'abbiamo capito ma mi sono anche molte volte interrogato sul perché questo finale al di là della sua bellezza risulta essere tremendamente commovente emotivamente molto cioè freddo com'è però io non conosco quasi nessuno che a questo punto non abbia come fosse un no? quando lo si legge il gorgo è molto difficile leggere perché sono un paio due tre punti di vera commozione e ti si crepa la voce cioè proprio è normale e qui proprio ma cioè anche se lo legge scurati si commuove ma dico un eccesso e quindi ci commuoviamo davanti alla bellezza sempre ma ma spesso mi sono detto ma non può essere è una ricerca che ho da anni per capire come mai faccia così piangere questo gesto finale e ho delle spiegazioni provvisorie fra dieci anni torno qua e vi spiego di più ma per adesso quel che ho capito è questo ma non è inutile e quindi chiudo con questo io credo che soprattutto noi piemontesi ma in generale gli umani quello che percepiscono senza accorgersene perché lui vi sta distraendo con la bellezza del gesto tecnico ma con altre parti del corpo gli umani percepiscono comunque quello che in queste righe non c'è e il fatto che non appaia in nessun modo tutto quello che non c'è è di devastante tristezza cosa non c'è tutto quello che santo cielo il padre dovrebbe fare cioè parlare e gli cazzo ti devo la vita cioè gli ha salvato la vita e lui cosa fa? cioè mentre lui ci distrae stiamo a mirare oh che Dio della scrittura sta accadendo qualcosa di atroce che un uomo a cui hanno salvato la vita tutto quello che è capace di fare è muto rallentare il passo e col pollice fare così tra i due nervi ma sei pazzo tu dovresti fermarti abbracciarlo parlare dire qualcosa urlare saltare correre un bel bestemmione dargli dei soldi regalargli il tridente ma che cazzo ne so metterti a piangere ma posso andare avanti minuti minuti ed è tutto quello che non c'è in queste tre righe e io penso che che l'umanità tutta senta il lutto atroce dell'umanità che muore in questa roba qua tutto questo è il libro dei suoi racconti voi lo potete leggere tutto e troverete sempre sempre non scritto quello che mancava nella vita di queste persone come una cosa lacerante dolorosissima cioè la vita che non abbiamo vissuto senza diventare insomma esagerati però qui nessuno si abbraccia mai andate avanti tutto trovate mica nessuno e il fatto che quest'uomo comunque nel suo modo abbia detto alla mia gente però in fondo agli umani tutti abbia detto oh ragazzi voi non vi abbracciate ma siete fuori lui per primo che era un uomo così per come lo racconta era uno strano cioè stava molto stretto dentro sta roba più per rispetto del suo mondo però però alla fine lui viene ricordato come uno molto rigoroso però questo lutto atroce proprio per cui penso di fatto che irrompa questa commozione irresistibile in chiunque quando vede che la vita muore non la vita dei corpi che è quella che se ne frega la vita di quando si è vivi cioè quando accade la vita e poi tu non la fai quando per una forma di eleganza del cazzo per una forma di eticità di stafava per una forma di rigore che vada a fanculo ti produci ingesti incantevoli guardate io ho una mitologia personale piuttosto ricca di queste cose che hanno fatto a me e che io ho fatto ad altri cioè ne vado anche abbastanza fiero ma noi ci portiamo dietro comunque il lutto di tutto quello che però non facciamo non è una cosa solo piemontese noi piemontesi ce l'abbiamo forse più di altri però gli umani la conoscono io ho letto Fenoglio a Amsterdam ok c'ero io che leggevo in italiano e poi c'era uno che traduceva in olandese con una lingua quella di Fenoglio che rocciosa sembrava melassa fra proprio così alla fine erano cioè sono olandesi ma c'era una commozione pazzesca non avevo letto il gorgo ma c'era una commozione pazzesca perché tutti gli umani conoscono sta roba forse soprattutto i nordici che non abbracciano ma insomma sappiamo cos'è quando la vita muore non dei morti che è quello a chi se ne frega quando la vita muore da viva no eh cazzo e quello è commovente cioè e se uno te la dice bene come lui era capace di dire ma che cosa devi fare ti commuovi appunto se non ti commuovi sei ancora peggio di quel padre lì vuol dire che sei incurabile proprio e quindi ci commuoviamo quindi se adesso io scendo da qua e non vi abbraccio completamente tutti come vorrei fare è solo perché ho l'influenza e non ho voglia che poi ci sia il cluster della festa tutti a casa con l'influenza però ci ho lavorato molto io abbraccio molto adesso e tutte le volte che leggo sto finale mi commuovo anche pensando a me pensando vabbè adesso adesso io comunque sono andato un po' al di là di questo pollicetto cose con i miei figli cioè qualcosa di più sono riuscito a ottenere tra le altre cose questa splendida scuola vi ringrazio fenoglio grazie cari che bel raduno ci siamo fatti un gran regalo in questo raduno Lorenzo Giova Cherubini amico mio che sale i gradini quindi tutto bene buongiorno buona giornata che bello mi chiedo come te vieni grazie di questo invito Alessandro grazie ho sentito solamente metà credo della tua meravigliosa lezione come sempre rimango esterefatto e torno a casa con qualcosa come va caro bene abbastanza bene tu come va l'abbiamo organizzata bene non ci siamo neanche sentiti siamo due red usci quasi abbiamo avuto un anno difficile ogni tanto ci scrivevamo io insomma abbastanza bene conto per gennaio di essere tornato più forte di prima o perlomeno forte in un altro modo tanto sali da lì sali bene faccio quasi tutto io pensavo quelle cose no no ho dolore ho tolto le stampelle completamente adesso cammino vado in bici sono tornato in bici no torno in bici non toccare più con la bici ma in realtà vado meglio in bici che a piedi cioè adesso ancora camminare mi fa ancora male andare in bici invece mi poi mi mi motiva insomma mi accende l'entusiasmo smettiamola qua se non poi continuiamo no senti e poi la schiena sono entrate nell'età che ci raccontiamo quante volte ti alzi la notte a pisciare quelle cose lì lasciamo stare lasciamo stare non ci siamo neanche parlati però quando abbiamo pensato tutto questo mi ricordo di aver detto ma ci sarebbe ok io faccio una lezione la faccio molto volentieri sarà un onore un piacere come è stato però poi non so mi piacerebbe della musica e adesso non so cosa tu farai no non lo so neanche io io non so proprio niente perché sono arrivato stamattina in aereo da Roma ti dico quello che avrei dovuto dirti in una telefonata un mese fa no di per sé avevo pensato perché noi siamo lì appunto come fenoglio cioè non ci diciamo le cose no 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 però ci vogliamo bene lo sappiamo molto molto lo sappiamo ma no mi era venuto in mente che sarebbe stato carino perché poi uno dice 30 anni però poi questi 30 anni è un numero cazzo cioè mi sarebbe piaciuto che qualcuno e poi mi sei venuto in mente tu perché sei il più compagno di strada forse che abbiamo tra quelli che fanno musica in Italia non so portasse della musica che dava un sound a quei tre decenni allora ho pensato anche a qualcuno che avesse fatto la strada nostra perché tu dagli anni 90 ad oggi siamo un po' cresciuti insieme 30 anni fa è stato proprio per me un anno importantissimo fondamentale e quindi siamo passati attraverso quei 30 anni lì crescendo tutti cambiando sia noi della scuola sia tu e insomma mi ha fatto quella strada insieme solo che appunto io posso parlarne ma non lo posso cantare allora ho pensato bellissimo se lui venisse allora senti un po' lo sta dicendo adesso in realtà io lo ascolto come mi rendo conto ho cercato di organizzare questa cosa nella mia testa se tu invece vuoi vuoi cantare dei grandi si a cappella tipo fai i cori facciamo armonizziamo si con un contatto di me che ho l'influenza ma si però se volessi portare un po' di musica in questo cortile perché ma qui c'è anche qualcuno che era qui proprio 30 anni fa ci sono anche gli studenti dell'inizio li mettiamo qui davanti c'era il 94 allora io intanto devo dire che nel 92 facevamo un concerto a Torino al Palasport si chiamava Palastampa all'epoca forse si esisteva con Luca Carboni ed era la mia prima tournée nei Palasport prima di allora avevo suonato solamente nei locali nelle discoteche e no vi racconto questo perché nel 92 a un certo punto io ero lì con Luca cantavamo sul palco mi volto verso destra e vedo Baricco Baricco che era famoso perché faceva i programmi in televisione perché tutti io lo guardavo lo guardavo sempre con molta partecipazione poi proprio all'epoca la tv era quella che dovevi accenderla a quell'ora lì per cui mi prendevo me l'assegnavo questa cosa e vedo Baricco lì e dico che ci fa Baricco qua cioè proprio non me lo spiegavo no davvero anch'io mi chiedeva perché infatti proprio non me lo spiegavo dico cerca durante tutto il concerto mi chiedevo chissà mi guarda come un animale cioè probabilmente sì come se fossi no venne a fare uno studio antropologico sui giovani d'oggi ed era tutto vero penso questo non penso che fossi lì perché eri un mio fan no anzi no no però questo sottolinea la grandezza di entrambe questo lo dico perché io scrivo per i giornali ma ero piccolo perché avevo 30 poi c'è un seguito 4 anni c'è un seguito ok e niente a un certo punto dico scrivevo su tutto quello che vedevo di interessante nel mondo fosse lo sport bocciofile eccetera e a un certo punto dico quel prossimo pezzo lo faccio vado a sentire giovanotti adesso non voglio offendere nessuno però è come se oggi dicessi scrivessi sul Corriere della Sera e al tempo era come dire ma io vado al concerto del tiktoker non voglio offenderti però allora non mi offendo allora era così infatti sono anche tiktoker per cui vedi che come poi uno si adeguata esatto no scherzo però proprio devo dire ma che e io ce l'ho andato perché avevo intuito che ho visto questo concerto sono tornato ho detto ragazzi voi non avete capito un cazzo quello lì lì dentro c'è un'energia che voi neanche l'avete quando e poi non mi ricordo cosa scrissi ma immagino che qualche modo no allora quella sera successero due cose prima io non ci incontrammo per cui io poi finì il concerto e partì subito per Milano e in macchina io portavo sempre un registratorino a cassette perché non c'era ancora i memo vocali non c'era niente di tutto questo su un registratorino a cassette appuntai il ritornello di penso positivo in una maniera fra l'altro strana perché accesi la radio e c'era di Andrè che cantava Bocca di Rosa attenzione Bocca di Rosa e io sulla metrica di Bocca di Rosa scrissi penso positivo Bocca di Rosa dice la chiamavano Bocca di Rosa metteva l'amore metteva l'amore io scrissi io penso positivo perché sono vivo perché sono vivo proprio la scrissi esattamente sulla stessa sulla stessa metrica ed era quella notte lì quindi tu in qualche modo rientri in questo in questo scenario in questo scenario vabbè e quindi insomma io dissi wow qui c'ho come insegnate in questa scuola quando becchi la cosa la senti giusto? senti qui c'è una canzone qui dentro c'è una roba quindi me la appuntai vabbè il giorno dopo anzi due giorni dopo sulla stampa di Torino uscì il suo pezzo sulla mia performance sul concerto che diceva delle cose fantastiche ma proprio fantastiche io non avevo mai ricevuto una recensione così attenta così così gratificante per me proprio perché usava delle parole che davvero non sognavo neanche che qualcuno potesse produrre riferite a quello che portavo in scena quindi per me quella fu proprio una cosa meravigliosa perché io amavo Baricco lo guardavo in tv sempre leggevo i suoi libri insomma come tutta la mia generazione anche sia quella prima che quella dopo insomma siamo cresciuti con Baricco in tv e abbiamo imparato cose abbiamo comprato libri perché lui ce li consigliava eccetera perché ce li raccontava quindi ecco questa è stata la mia era una cosa che volevo dire perché poi insomma Penso Positivo è uscita proprio nel 94 quindi poi nel 93 abbiamo registrato il disco e nel 94 insieme alla scuola Holden nasce anche un disco importante per me dove c'è Penso Positivo la serenata rap insomma questo è stato un disco abbiamo avuto un milione di copie vere proprio fisiche non quelle le cose digitali proprio i dischi veri quindi insomma fu una un botto e vedi suonano le campane apposta perché è proprio una annunciazione ringraziamo l'organizzazione però è perfetta questa cosa però io volevo in realtà io non pensavo non sapevo di questa cosa della musica e poi sono con la chitarra un po' di domenica mattina neanche in chiesa io cantavo di domenica mattina quando facevo il caricato non so mi hanno detto ha chiesto una chitarra io ho pensato che in qualche modo ma ti dicono cose finte perché io le vedo lì tra l'altro sia una classica che una folk quindi siamo perfetti no per lasciarti ma voi l'avete letto Abel ma che libro è come si pronuncia lo pronuncia Abel l'avete letto tutti l'avete letto quindi è un libro io stamattina ero in volo da Roma e non rilegati dei pezzi perché è un libro come i grandissimi libri lo leggi anche a caso no dopo che l'hai letto una volta poi si apre una pagina sei d'accordo che è un bellissimo libro? è fantastico no adesso non posso no no io te lo chiedo perché non te l'ho mai chiesto ma mi è riuscito bene perché un'altra cosa in cui siamo compagni di strada comunque che comunque si può anche iniziare bene si può anche essere molto forti si imbrocca imbroccare un decennio in cui sei il meglio che c'è questo si può fare ma comunque poi tanti anni dopo ribeccarti che sei lì e fai qualcosa che a te piace molto b comunque sta nella corrente dell'andare collettivo con una forza no questa scuola è tante volte più grande di quella che io prima nel 94 le spiagge del Giova B sono tanto più grandi di quel palastampa no e questa non è proprio una cosa adesso non dovrei dirmela io non dovrei dircela a noi però prendetela come una cosa bella che è accaduta quindi bisogna avere fiducia che le cose belle accadano però insomma arrivare lì non è affatto semplice ma credo in questo te lo domando visto che siamo qua che la Holden abbia avuto un senso questi 30 anni proprio nel mantenerti connesso anche con i cambiamenti del mondo attraverso gli studenti immagino oh madonna santa cioè è importante quello io quando incontro un ventenne rimango sempre spiazzato dal punto di vista dall'approccio alla vita quindi l'idea di frequentarli costantemente tra l'altro frequentare dei ventenni che hanno voglia di imparare una cosa che ti riguarda e non così sparare nel mucchio ma averci lì davanti immagino che anche per te sia stato un importante no no io ho avuto questa fortuna la Holden mi ha tolto molto mi ha dato moltissimo comunque è stato molto faticoso tutto faticosissimo però tra le tante cose si lavora tanti escono da qui cioè è vera questa cosa giusto? sì sì è vero cioè non è una mitologia cioè è una cosa vera sì per esempio fammi un esempio perché poi sono gli esempi per esempio tu hai imparato voi eravate qua 30 anni fa giusto? e lavorate nel mondo del storytelling si può dire perché tu sei stato il primo a usare questa parola qua sì anche se ci sono quelli che fanno le guide del montagna ok ma un po' diverse dalle altre cioè certo sì ti perdi sono quelli che ti perdi ma poi arrivi vivo cioè comunque la Holden insegna una postura una postura come stare su questo pianeta contando su alcune cose su alcuni gesti più che su altri ecco certo i numeri ci fidiamo poco della sequenza narrativa tanto e poi questo tu puoi fare un ristorante puoi fare dei libri puoi fare una scuola anche tu puoi fare il ministro puoi fare quella cazzo ti pare musica è una formazione come quelli che iniziano facendo filosofia o antropologia rimarranno per sempre diversi magari fanno i manager però insomma quello è poi ci sono quelli che sono venuti qua hanno imparato un mestiere tecnico artigianale lo fanno molto bene vivono alcuni sono diventati ricchi famosi eccetera ma insomma non è solo per quelli che l'abbiamo fatto ma facciamo un po' di musichella sì non io non io ragioniamo sui 30 anni però stai qua però non faccio la seconda voce c'è una chiesta aspetta che mi prendo non sono capace la Taylor non sono capace stavo ragionando su questi 30 anni perché 30 anni sono sono un ciclo importante allora ti racconto una cosa ora dire ti racconto una cosa baricco è strano no no sì ti canto una cosa sì è un po' così però 30 anni sono sono tanti tempo fa tempo fa ho fatto sono stato tornato perché io da bambino ci andavo spesso ci lavorava il mio babbo alla Cappella Sistina va bene a visitare la Cappella Sistina e con una persona che si che ne sa che ne sa quindi insomma e parlavamo lui mi spiegava delle cose e mi ha fatto vedere vedi il soffitto e il giudizio universale hanno tra di loro passano tra queste due opere passano 30 anni ok il soffitto l'ha fatto che aveva 30 anni circa Michelangelo 32 anni e il giudizio universale l'ha iniziato che ne aveva 60 proprio 30 anni esatti in questi 30 anni è successo è cambiato il mondo cambiato il mondo come è cambiato il nostro mondo in questi 30 anni il soffitto ha un'architettura molto rigorosa tutte le figure sono inserite in spazi molto equilibrati l'occhio proprio gode di questo equilibrio quasi geometrico alchemico ed è la chiesa prima della riforma poi passano 30 anni durante i quali Lutero fa il casino e 30 anni dopo c'è il giudizio universale dove l'architettura non c'è più dove vagano sulle nuvole dove non si capisce quali sono i dannati quali sono i beati Gesù ha questa posa aggressiva quasi la Madonna volge lo sguardo quasi impaurita da lui si gira e ho pensato che anche noi abbiamo passato questi 30 anni qua cioè nel senso che siamo sulle nuvole adesso siamo il cloud infatti è un'immagine chiara di questo che abbiamo perso un'architettura bella o brutta che sia però quella che si era creata forse nel dopoguerra quella dei nostri genitori quelle cose lì che comunque erano fatte di punti abbastanza fermi anche di idee di visioni del mondo contrapposte ma comunque solide e poi passano questi 30 anni e avviene internet probabilmente il game giusto? soprattutto quello avviene soprattutto quello che sbaraglia il campo da tutto e quindi oggi noi come nel giudizio universale di Michelangelo ci troviamo in questa meravigliosa perché poi è una meraviglia il giudizio universale pieno di blu di lapislasolo è meraviglioso però tutto vola niente a terra non c'è niente che a terra anzi addirittura nella prima parte qualcuno emerge dalla terra e si rimpadronisce del corpo e torna a vivere e allora ho pensato che questi 30 anni che lui ha vissuto tra il soffitto e la parete sono un po' quelli che abbiamo vissuto anche noi e siamo tutti un po' così siamo tutti un po' così a cercare di capire che succede quando toccheremo terra e anche un po' però c'è nato un giudizio universale che avviene continuamente però è un mini giudizio universale che però si ripete continuamente attraverso questa connessione continua con il giudizio con lo sguardo con l'esposizione con con la perdita totale di protezione e questo in qualche modo è è pauroso ma è anche bellissimo questo volevo dire mini giudizio universale ricordiamoci questo è l'MP3 della fine dei tempi esatto però è vero è una delle cose che perché è tutto mini c'è il mini giudizio universale la mini fama il mini successo ogni giorno però devi riaggiornarti però ogni giorno devi riaggiornarti comunque io adesso comparisco qui come un mi piace devo stare qui proprio mi piace per forza per forza ma questa è amplificata no? ah sì c'è un volume? aspetta io non c'ho pletro non c'ho niente ma faccio ah dobbiamo attaccarla infatti ah ok scusa sono comunque passati 30 anni diciamo più così tra l'altro in quel concerto del 92 io la chitarra avevo appena iniziato a suonarla sebbene avessi già fatto 6 album probabilmente però dice lunga eh sì sì sul mio coraggio di dire vado a sentire Giovanotti no però vorrei chiedere a uno dei rapper che fanno che ci sono adesso in giro se sta suonando qualcosa nessuno sta suonando niente infatti è un anticipatore però la cosa però quando tu dici che poi ah 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 no no perché poi voi non cioè il primissimo Lorenzo il primissimo cioè perfino io che ero aperto qualsiasi cosa cioè bisogna averci cioè il primissimo però sbagliavi no sbagliavo no no e te lo devo dire sbagliavi eh lo so no no dopo ho capito che eravate avanti però perfino io che ero avanti eravate ancora più avanti affanculo perché veramente l'altro giorno ho fatto sentire il mio primissimo disco a mia figlia che lo ignorava e quindi siccome era uno studio di registrazione c'era un impianto pazzesco ho messo su Giovanotti For President che è il mio primo disco già il titolo sì vabbè però no era avanti era avanti e in effetti io non lo sentivo da allora probabilmente è dell'86 quindi insomma è un sacco di anni fa e ho pensato proprio vabbè questa roba era irresistibile non poteva cioè no no ma non perché l'ho ascoltato con un distacco con un distacco da nonno quasi nel senso che quello lì potrebbe essere mio nipote quello che ha fatto quel disco lì e io l'ho ascoltato e mentre lo sentivo anche mia figlia era presa benissimo perché capivo che lì dentro io non capivo perché il mio successo non me lo spiegavo mio padre neanche la mia nessuno si spiegava il mio successo però quel successo era devastante era enorme sì sì e lì l'ho capito l'altro giorno cioè quattro giorni fa ho capito che è una questione solo e semplicemente di energia non c'è nient'altro è energia che il microfono becca entra dentro non la controlli lei fa qualcosa e questa cosa viene trasmessa cioè guarda in fondo adesso la butto lì però alla fine ci siamo ritrovati in un mondo in cui se ci pensate bene contano solo due cose narrazione e energia ecco qua voilà cioè negli anni 80 e 90 che contavano tutte altre cose se facciamo un duetto c'era gente che diceva se facciamo un duetto uniamo queste due cose e secondo me spacchiamo spadagni non l'abbiamo mai fatto per cautela perché potrebbe succedere troppo vai no che vai cioè Penso Positivo era fatta solo su un accordo perché avevo da poco iniziato a sonare la chitarra e io ogni accordo in più che ho imparato ho scritto una canzone quindi veramente così quindi Penso Positivo ne ha uno solo che è un La minore quindi fa sempre dritto non cambia mai tutto il funk è fatto tutto su un solo accordo per cui in generale insomma poi dopo ho capito che la musica modale tutte quelle cose che tu conosci accademicamente che io adoro cioè per dire anche il Ravelle il Boller è fatto su un solo accordo dall'inizio alla fine giusto? chiedo conferma sì sì è un solo è sempre la stessa è un pezzo modale giusto è fatto su un modo esatto e c'è Marco Ponti lì Marco Ponti ha fatto un mio documentario quindi è io penso positivo perché sono vivo perché sono vivo io penso positivo perché sono vivo e finché sono vivo niente a nessuno al mondo potrei fermarmi da ragionare niente a nessuno al mondo potrei fermare 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 questo onda che va vedi vedi fantastico questo è proprio rudimentale tipo il ma non è che se io leggo una mia frase mi fanno no no però non mi manca e siccome ero in tour con Carboni quest'onda che va l'ho rubata a Carboni perché lui aveva un pezzo che finiva diceva la sente amore questa onda che viene va e mi ruba anche l'anima e quindi io l'ho l'ho rubato parliamo di furti come dice Farinetti bisogna rubare sempre e migliorare sembra che sia migliorato con tutto rispetto però penso positivo è un pezzo interessante perché poi a un certo punto c'è quella frase che dice intanto c'è una parola ragionare sulla quale io ho discusso con me stesso per una vita perché niente e nessuno nel mondo potrà fermarmi da ragionare lì mi è uscita ma io non sono mai stato completamente d'accordo con quella parola cioè nel tempo nei concerti dico adesso la cambio e infatti a volte non la dico dico niente nessuno nel mondo potrà fermarmi 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 e basta cioè tolgo tolgo a ragionare il pubblico la canta ma io la la tolgo perché perché non è è un po' riduttiva è un po' riduttiva cioè il ragionamento è solo una parte delle cose che non che non dovremmo fermare giusto? però qui falla che gli fa bene quindi e penso positivo perché sono vivo perché sono vivo io penso positivo perché sono vivo e finché sono vivo niente e nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare niente e nessuno al mondo potrà fermare 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 questo è la che va questo è la che viene che va questo è la che va questo è la che viene che va io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa qua mi sono messo nei guai, che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcom X attraverso Gandia e San Patrignano, qui è arrivato Veltroni, tutto il discorso dell'ingotto, poi tutto discende da questa fase che è uscita così, cioè in realtà è uscita e mi rappresentava nel caos appunto, ero già nel giudizio universale e quindi l'ho lasciata, l'ho lasciata sapendo che avrebbe disturbato qualcuno, perché mettevo insieme San Patrignano con Madre Teresa, Malcom X, insomma era un bel pantheon, il prete di periferia che va avanti, tutte quelle cose lì, però in quel momento sentivo che questa frase mi rappresentava anche San Patrignano, che non ci sono mai stati a San Patrignano, né come paziente né come visitatore, però mi c'è cascata dentro e quando le cose ci cascano dentro, non so se alla Holden questa cosa si dice, cioè che se dentro una frase ti casca dentro una parola, un motivo ci sarà, no? E quindi devi poi decidere se tenere l'errore o comunque la casualità come una benedizione oppure se rimuoverla, però in quel momento sentivo che aggiungeva elettricità. Il mattino dopo devi riguardare un attimo. Esatto, e io in quel caso invece ho deciso di lasciarla. Comunque il 94 è un anno importante perché poi c'era la serenata rap eccetera, poi vuoi andare di 10 anni 10 anni? Quindi dal 94 andiamo nel 2004, nel 2004 c'è questa che è un pezzo che apre un'altra fase mia, insomma 10 anni dopo, nel 2004 c'è che mi fido di te. Però non mi ricordo gli accordi, perché sono quattro eh, quindi. Esatto, fa così. Casi di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano su una cadillata, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randaggi che è meglio il remaggio, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù la vertigine, non paura di cadere, ma voglia di volare. E in questo caso, passati 10 anni, grazie, grazie. Mi fido di te, con mi fido di te, con mi fido di te, mi ero riproposto, scrivendola mentre nasceva, di non dire più niente nelle canzoni, ok? Ovvero, ovvero di non essere, che le canzoni non dovessero più contenere un messaggio, tra virgolette, ma che avessero solamente, che esprimessero solamente emozione. Per farlo, in questa canzone, per esempio, ho messo insieme semplicemente delle immagini disparate, case di pane, riunioni di rane, è uno scorrere di un... però non c'è una storia, non c'è una storytelling nella canzone, non ci sono neanche io nella canzone, ci sono io che guardo delle cose. E quindi quella cosa lì mi ha aperto una nuova prospettiva nella scrittura delle canzoni, meno narrativa, anzi assolutamente non narrativa, anche perché non ci sono mai riuscito a fare le canzoni narrative come faceva De Andrè o come faceva Dalla. Con la storia. Con la storia, le canzoni con la storia non ci sono mai riuscite. e quindi mi sono dedicato a fare canzoni che non avessero una storia, ma che avessero semplicemente dei richiami a delle immagini, delle immagini. Cioè, ma hanno sempre un umbilico, però. Cioè, comunque anche questa qua, no? Certo. E tutto il mondo che gira intorno a sta roba e mi fido di te, mi fido di te? Perché per me quella è un'esigenza cattolica, probabilmente, è un'esigenza da Emmaus, che parte da lì, che è uno dei tuoi libri che io amo di più, perché ci sono nato dentro quel libro lì, che è questa idea escatologica, in qualche modo, della vita, per cui si arriva da qualche parte. La vita non è stare, vagare verso la morte, ma vivere verso la morte. E quindi, in qualche modo, quella è proprio una cosa che mi viene dall'oratorio, proprio da quell'idea non ideologica della vita, ma religiosa, in qualche modo, è legata proprio all'idea che il mondo va da una parte, che si va verso tempi migliori. E quindi il mio compito di cantante è quello di, alla fine, dico tante cose, però poi te la devo dare, me la devo dare, anzi. Una via d'uscita, una frase che risolva, un accordo che risolva, da un punto di vista verbale. Poi dopo si va, vent'anni dopo, quindi siamo 94, 2004, 2014 sono vent'anni, 2014 che c'ho, 2014? Vabbè sì, c'ho l'estate addosso, c'ho sabato, che è un pezzo che amo molto, poi l'estate addosso, poi c'è ragazza magica, ragazza è magica e lancia in aria al mondo, lo riprende al volo, trasforma il pomeriggio in un capolavoro e mi fa stare bene, ah, tanto io sto con lei. E qui è pieno d'accordi, vedete? Cioè su Penso Positivo c'era uno, su Fido di Te ce n'è quattro e qui ce n'è venti, venti addirittura, c'è addirittura delle diminuite, ci sono delle, sì 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 sì, ci sono delle diminuite. Adesso sulle diminuite anche tutti i sus sono mitici. Perché poi dopo Fido di Te mi prende la smania delle canzoni d'amore, l'esigenza proprio delle canzoni d'amore, delle canzoni romantiche. E in quello è stato importante Raffaello, Raffaello e Modigliani, siamo questi due, che hanno dipinto sempre, si sono concentrati molto sull'idea del ritratto femminile. Raffaello faceva delle madonne meravigliose, Modigliani ha ritratto sempre la stessa donna, sempre diversa, sempre lei. E io ho pensato che potesse essere per me una strada, quella di fare canzoni che ritraessero una figura femminile reale, di carne e sangue, ma anche un po' idealizzata, anche un po' che me la porto verso il mio desiderio. E lì ho lavorato molto perché andavo proprio a cercarle quelle canzoni lì, sentivo proprio la voglia di lodare, di lodare l'universo femminile attraverso una figura in carne e ossa che avevo come modello, diciamo così. E ho provato di lodare, di lodare il primo spartito italiano, il più antico spartito italiano, tu che sei esperto di queste cose, forse non sai, anzi sicuramente lo sai. Il primo, il più antico è a Cortona, è conservato nella biblioteca di Cortona, nell'Accademia Etrusca ed è il laudario di Cortona, che è un laudario, ancora la notazione, non ci sono le durate, ci sono solamente gli intervalli, però è il più antico, quindi insomma. Ce l'avete voi. Ogni tanto ci penso, quando sono a casa che è a 100 metri da casa mia c'è il più antico Cortona, centro del mondo. Sì, no no, no, non centro del mondo, centro dei laudari sì, perché io perché dico questo, non è che voglio esporvi, che ne so, è una roba che si sa questa, però perché la lode, il concetto di lode non è proprio frequentatissimo nelle canzoni, è più frequentato il concetto di lamento, piuttosto che il concetto di mancanza, piuttosto che la questione delle donne che ti lasciano, dell'amore che non c'è, del paese che non funziona, della politica che non va, della guerra che non cessa. Invece, per una questione proprio di formazione mia, ho cercato sempre di tenere una porta aperta all'idea, alla possibilità di fare canzoni che fossero delle lodi, che fossero delle lodi, proprio delle lodi alla Jacopone da Todi. Sai che Morandi ha fatto un musical negli anni Sessanta che si chiamava Jacopone, che è su Jacopone da Todi, che lui disconosce. Sì, perché dice che è tremendo, dice è tremendo, non lo voglio sentire tremendo, non l'aveva scritto lui, però nel suo periodo dark, quando i sessantottini ce l'avevano con lui, perché lui rappresentava l'Italia del boom, eccetera, quindi lui non sapeva che fare, gli proposero di fare un musical. Ce l'ho, lo ricordo lontanissimo, sì. Era una roba un po' da canti di chiesa. Che ha detto così è tremendo, orrendo. Jacopone, manca il titolo. No, no, tutto sbagliato. Cioè, questo è il nuovo libro Jacopone. No, proprio Morandi Jacopone. Cioè, alla oltre gli insegnano che non si può chiamare un libro Jacopone. No, no. Tantomeno un musical. Ma per carico. Jacopone non è male. E vabbè, e quindi, insomma, poi nel 2015 c'è Alessandro Dott. Alessandro Dott, alessandro Dott, alessandro Dott, alessandro Dott, alessandro Dott. Penso a te, regà. Beh, prima che il tempo si porti... Sto cantando molto bene, eh, stavate. Beh, hai sempre cantato molto bene. No, no, poi, no, no, io dal vivo sono diventato intonatissimo. No, no, davvero, sono diventato intonato. No, come tu abbia fatto, come tu abbia fatto, non lo so. Io mi stupisco anche di me stesso a volte. Dico, ma cazzo, ma guarda come sono intonato. Comunque ci sono due personaggi musicali che sono miei contemporanei, diciamo così. Uno proprio letteralmente, che è Madonna, e l'altro lui, nel senso che mi sento molto cresciuto con lui. perché stavamo in una certa area di pensieri, di gusti, anche se ci siamo poi visti pochissimo nella vita. Ma insomma, comunque, ne uno, ne l'altro hanno iniziato sapendo cantare. Cioè, Madonna, e lui non solo non sapeva, ma proprio... E questo lo trovo fantastico. Però ora mi offendi un po', sai quello? Sì, sì, lo so. Però mi ha sempre fatto pensare che quando io ho iniziato a scrivere, di me i critici letterali dicevano che non sapevo scrivere. Cioè, non sapevo cantare effettivamente, cioè, come facevano loro. Cioè, anch'io stonavo. Eravamo ampiamente stonati tutti. Quindi chi era stonato negli anni 90, ragazzi, ha fatto una grande strada. Ma gli anni 90 è un decennio di grandi stonati. Madonna, è stranissima sta cosa. I grandissimi stonati. Sì, sì. Ma belli, belli. Sì, bellissimi. Perché ha costruito, non so cosa ci fosse nell'aria in quegli anni. Bellissimi. Però un sacco di gente ha fatto un sacco di cose. Beh, io, sì, gli anni 90 sono stati... Beh, si è rotto tutto negli anni 90. Ha cominciato a esplodere tutto, tutte le forme, no? Apparentemente c'erano delle crepe da cui tu andavi dritto, dritto e entravi. Io mi ricordo che mi ritrovavo ai miei concerti a pensare, ecco, quei due lì non starebbero mai insieme in questa stanza. Cioè, se non fosse per questo concerto. Cioè, non si sarebbero mai incontrati in uno spazio così definito se non fosse stato per questa follia di questa musica, appunto, un po' stonata, però piena di vita. Era tutto in movimento, era tutto in movimento. Ma poi contava più un'altra cosa. Cioè, spostavi il baricentro da un punto all'altro di una cosa. Certo. Insomma, era quello il gesto pazzesco. Io non so se prima, se era la prima volta che succedeva questo. Probabilmente c'erano stati anche altri momenti nella storia che noi non abbiamo vissuto. Però in quel momento era chiaramente così. Era chiaramente così. Bello, bello che c'eravamo. Gli anni 80 hanno più fan degli anni 90. Proprio perché gli anni 90 esplodono. Quindi non riesci neanche a essere fan realmente. Scappano tutti. Scappa tutti. Però, madonna, quelli lì erano... Poi non avevamo paura di nulla. Tutti i mici... Cioè, anche una scuola, c'erano dei soldi in ballo. Ma c'eravamo paura? No. Ma in genere, in genere. Infatti, sono state fondate anche in Italia proprio tante cose. Case editrici, case di produzione cinematografica. Tutte negli anni 90. Evidentemente non avevamo paura del domani. Cioè, pensavamo che ce le saremmo cavate, che l'avremmo sfangata. Ma tante cose, tante cose. Vabbè, un'ultima così... Vedete che la mia performance l'ha lasciato a desiderare, ma io non... In realtà, per me è stato, come per voi, immagino, bellissimo proprio essere qui. Perché io ti voglio proprio bene. E ti ringrazio. Io ho proprio un sentimento... Tu sei il nostro regalo dei trent'anni. Un sentimento grande di gratitudine sincera. Proprio ti voglio... Insomma, tu per me sei stato molto importante. Sei tuttora importante, come dicevamo prima. Sei tuttora attuale in quello che fai. E mi piace leggere sempre, sentirti. E poi quando si critica la rete, tutto, tutti impauriti da sta roba. Cioè, io su YouTube trovo le tue lezioni, le tue cose che hai fatto in teatro. E mele, in questo ultimo anno di fisioterapia, due volte al giorno, ti ho visto tantissimo. Mentre facevo degli elastici, ti ascoltavo con moltissimo piacere. L'altro giorno, l'ultima cosa, ho ascoltato una tua lezione su Moby Dick, che avevi fatto a Roma, da qualche parte. Ed è veramente bellissima. Per cui, grazie Alessandro e viva la volta. Viva la volta! Se devo riassumere l'energia che Lorenzo mi ha dato nella vita, a partire da quel giorno là, che ero ancora piccolo e giovane, ma diverse volte nella vita, e sono andato i suoi concerti, e i suoi concerti sono veramente una cosa molto particolare. Al Joma Beach non sono mai stato, ma i suoi concerti sono sempre stato. E mai trovo riassunto meglio di questo piccolo episodio stupido, però una volta sono andato con Oscar Farinetti a un tuo concerto, a Roma. Oscar Farinetti è stato anche uno dei soci di questa scuola, quindi mi piace anche ricordarlo per questo. e ci siamo messi lì e niente. Nell'intervallo, a un certo punto, scendiamo e ci prendiamo una birra. Queste birre che si prendono allo stadio durante i concerti di Giova, cioè tiepida, nella plastica, del cazzo. A Giova Beach la plastica non c'è più. No, ci tengo a dire. No, lì era l'Olimpico. Nel Paolo Sport c'era. Era l'Olimpico a Roma, bravo. E sai che Oscar era l'eccellenza e tutto così. E poi ci risiediamo e c'era questo stadio pieno che ballava, tu che suonavi là con questo figurino pazzo che girava così. Eravamo lì così, tutte e due, anche con una certa età ormai, era una decina di anni fa, però tutti i prestiti di questa, avevamo voglia di spaccare il mondo, che già l'avevamo spaccato. Cosa fai? Stai calmo, vattene a casa, guarda un film. No, avremmo usciti da lì. E lui a un certo punto mi guarda, c'aveva sta birra del cazzo in mano, e mi dice, la birra più buona della mia vita. E questo è lui, cioè proprio quello che ti gira, quello che ti accende la luce sulla cosa. E di questo non ti sarò mai abbastanza grato. Grazie Lorenzo. Grazie a tutti voi. Tanti auguri a tutti. Grazie a tutti. Non lo sapevo, va bene. Non lo sapevo, va bene. Non lo sapevo, va bene. Grazie. 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 Grazie.